La presentazione dei nuovi marchi PSR sul territorio del cratere, cosa porta a casa da questo incontro? Da questo incontro porta a casa la volontà da parte della regione di ripartire mettendo a disposizione tutto quello che è il meglio che può fare in questo momento. Senz'altro per noi che rappresentiamo una filiera importante e anche il motivo per cui io sono qua ad Amandola è un'attenzione forte per quello che è il sistema zootecnico, sia ovino che bovino da latte. Noi abbiamo un caseficio che fa fior di latte, da qua anche importante perché comunque è un'azienda che fa 25 milioni di fatturato per una comunità come questo territorio mandolese e non solo penso che sia sicuramente un buon punto di partenza anche per far ripartire un po' tutto il sistema e tutto l'indotto. Quindi positivo l'incontro perché comunque serve informazione, confronti, informazioni.